Siamo alla resistenza, no? Anche per me sarebbe stato più facile se non fosse successo niente. È stata l'unica, l'unica vera falla di un piano perfetto, di un piano che era perfetto e che ora non lo è più. Perché anche se andasse tutto bene, anche se andasse tutto bene, io rimarrei fregato. Perché non potrei più vederti. Credi che avessi previsto di innamorarmi dell'ispettore incaricato del caso? Non ti voglio ascoltare. Non mi vuoi ascoltare. Perché non mi vuoi ascoltare, Raquel? Perché sono uno dei cattivi. Ti hanno insegnato a distinguere il bene dal male. Ma se quello che stiamo facendo noi lo fanno altri, ti sembra che sia giusto? Nel 2011 la Banca Centrale Europea ha creato da nulla 171 mila. Milioni di euro, da nulla. Proprio come stiamo facendo noi. Però alla grande. 185 mila nel 2012. 145 mila milioni di euro nel 2013. Sai dove sono finiti tutti quei soldi? alle banche, direttamente dalla zecca, ai più ricchi. Qualcuno ha detto che la Banca Centrale Europea è una ladra? iniezione di liquidità, l'hanno chiamata. E l'hanno tirata fuori dal nulla, Raquel. Dal nulla. Cos'è questo? Non è niente, Raquel. È carta. È carta. Lo vedi? È carta. Io sto facendo un'iniezione di liquidità. Ma non alla banca. La sto facendo qui. Nell'economia reale. Di questo gruppo di... di disgraziati perché è quello che siamo, Raquel. Per scappare da tutto questo. Tu non vuoi scappare. Tu non vuoi scappare. Tu vedi la ciao, vedi la ciao, vedi la ciao, vedi la ciao, ciao, ciao. Vedi la gente che passerà noi. Tu ti amo che me è il mio. Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partigiano portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E' questo fiorezza, partigiano, porto per la libertà. Siamo la resistenza, no? Grazie a tutti.